Vediamo come trovare lavoro nelle principali aziende tech tipo Microsoft, Amazon, Google e così via tramite i loro siti. Ciao, io sono Michele e in questo video voglio farti vedere come navigare i siti delle principali aziende tech e raccontarti un po' come funziona e come leggerli. Prima di entrare e proprio vedere come funzionano i siti e fare un po' di click di qua e di là, ti voglio spiegare che quello che ti sto per raccontare deriva dalla mia esperienza con l'assunzione e il lavoro in Microsoft per due anni e mezzo, dove ho anche partecipato ai processi di assunzione e selezione del personale. Per cui queste cose la conosco abbastanza. Di sicuro le procedure interne evolvono, cambiano nel tempo, sono aziende che non restano mai statiche, sono in continua evoluzione, però diciamo che alcuni principi sono sempre gli stessi. La prima distinzione che dobbiamo fare è che esistono due grandi categorie, due ladder, due percorsi, due scale con cui poter fare la carriera. La prima è quella che viene definita come IC e quindi sta per Individual Contributor, dove diciamo che i tuoi obiettivi all'interno dell'azienda, perché qui si è, nelle aziende di questo tipo, in tutte quante, si è in un certo senso misurati, però comunque in un senso buono nel termine, su obiettivi personali, individuali. Certo, bisogna anche saper lavorare in team, è molto importante, però diciamo che la parola Individual Contributor riflette il fatto che le proprie discussioni con il proprio manager, discussioni di carriera, eccetera, riguardano te stesso, i tuoi obiettivi personali e del team un po' in cui sei inserito. Mentre nell'altra modalità, nell'altra scala di carriera, sono due mondi paralleli, è quello del PM, People Manager. I People Manager non sono i manager come lo intendiamo, come dirigente, come lo intendiamo in italiano come dirigente. Certo, ci sono anche quelle posizioni, ma quando andiamo a vedere, andiamo a vedere nei siti, le posizioni di People Manager, sono quei ruoli completamente diversi dall'Individual Contributor, dove lo scopo è quello di gestire gruppi di persone, gestire la carriera e essere il responsabile di un intero team. Io ero un Customer Engineer, ero un Individual Contributor, avevo dei miei obiettivi personali, e ovviamente dovevo anche contribuire al team e tutto questo faceva parte delle mie revisioni. Ma c'era anche il mio manager, non in senso proprio di dirigente, come appunto lo si intende in italiano, ma di persona il cui scopo, il cui lavoro all'interno dell'azienda era quella di gestire il team in cui ero inserito, le attività di gruppo, la crescita di carriera di tutti noi, come mantenerci allineati, farci sapere quali erano gli obiettivi aziendali e così via. Sono due tipologie di carriera completamente diverse e non è detto che una sia migliore dell'altra. Appunto, uno può avere un indole di People Manager, un altro può essere appunto il classico Individual Contributor, o si può passare, non è così semplice, anche proprio perché richiede una propria predisposizione personale al cambiamento, sono due ruoli molto diversi, passare da una tipologia di carriera all'altra. Bene, ora che abbiamo un attimo più chiari questi due concetti, entriamo nei vari siti e vediamo un po' come funzionano. Allora, vediamo un po' come navigare i siti delle principali compagnie tech, non li facciamo tutti, ma ne facciamo una manciata, giusto per capire un po' come sono strutturati e come leggerli. Allora, partiamo da una sorta di convenzione, cioè mettiamo il nome dell'azienda tipo Microsoft e scriviamo Careers, quindi come fare carriera e le posizioni aperte. Di solito sono sempre in siti del tipo careers.microsoft.com, careers.google, eccetera, eccetera. Allora, entriamo qui, tra l'altro è una fatalità interessante, con Bing, Microsoft fa vedere questa cosa, è con i posti di lavoro vicino a dove lavoriamo, quindi molto interessante, a dove abitiamo. Allora, careers.microsoft.com, eccolo qui, possiamo fare, come funziona? Ci sono sempre queste multinazionali del mondo tech, hanno sia posti di lavoro per normali, diciamo, ma ci sono anche, quindi full time, eccetera, eccetera, ma ci sono anche programmi per studenti e chi si è diplomato o laureato di recente con delle opportunità di fare quello che loro chiamano internship, cioè quelli che noi chiamiamo qui in Italia gli stage. Come funziona? Allora, per esempio, se sei uno studente, vai nell'assunzione Students and Graduate e cerchi quello che vuoi fare, ma puoi anche cercare basandoti sulle tipologie di professioni. Teniamo in mente che in questi giganti, queste dinde enormi, non solo ci sono posti da software engineer, che probabilmente sono quelli che noi andiamo a cercare, ma ci sono anche tutta una serie di altri ruoli dove veramente non è detto che bisogna essere dei programmatori, per esempio, per lavorare in Microsoft. Abbiamo ruoli di business development, operazioni, comunicazioni, marketing, consulenza, insomma, c'è veramente di tutto. Facciamo, noi che siamo degli software engineer, e andiamo a cercare quelli che sono le posizioni appunto nell'ambito engineering. Attenzione che qui siamo nell'ambito studenti e quindi qui andremo a vedere quelli che sono gli internship. Il sito di Microsoft comunque funziona così, appunto, queste due grandi categorie, professionals, students and graduate, qui sopra. E qui si possono fare le ricerche per, questo è interessante, non c'era fino a qualche mese fa, anche la possibilità di work from home in percentuale, fino al 50%, solo in sede Microsoft, al 100% da casa o non specificato. Quindi, per esempio, questa è interessante, sono degli internship dove al 50% sei da casa. Una cosa importante è che comunque devi essere legalmente in questi posti, quindi questi sono per gli Stati Uniti o nello stato di Washington o nella Georgia. Poi qui ci sono un sacco di filtri, country, origin, ok, città, professione, appunto dove noi abbiamo scelto engineering, ma sono interessantissime anche le produzioni, le posizioni per esempio di program management, eccetera, eccetera. Disciplina, software engineering. Facciamo invece un... beh, ok, detto questo, diciamo che c'è una posizione che ci interessa. Facciamo per esempio software for hardware, questo. Allora, entriamo in una scheda e cerchiamo un po' di capire com'è fatta. Allora, vediamo. Allora, qui abbiamo il titolo e qui stiamo guardando una posizione per university graduates. Magari cerca di sap... di... Ok, allora qui siamo entrati nella scheda, nella position. Allora, qui siamo entrati nella opening per software hardware, software engineer, sempre per university graduate. Teniamo questa giusto per una descrizione, tanto per esaminare come fate una scheda, vale anche per chi cerca lavoro normale, insomma, chi ha già esperienza. Qui vediamo il titolo che viene deciso per questa posizione. Non è facile per chi apre una posizione che sono i people manager all'interno dell'azienda che hanno ricevuto un budget per poter ampliare il personale nel loro team e quindi hanno questo budget a disposizione, aprono una posizione per raccogliere adesioni e cercare di avere più curriculum possibile da esaminare e trovare talenti per il loro team. Quindi devono anche cercare di dare un titolo che sia... sia esplicativo ma che ha veramente a che fare con la posizione e anche accattivante. Poi qui sotto, in questo caso, nel sito di Microsoft, abbiamo la posizione geografica dove questo lavoro è disponibile. Questo, per esempio, è disponibile solo negli Stati Uniti, il Stato della California, il Stato di Washington. Questo è proprio in sede a Redmond. Abbiamo il pulsante Apply per far partire tutto alla macchinario, tutta la procedura dove mettiamo il curriculum e i nostri dati, il riferimento interno della posizione, quanto travel è richiesto. Il travel è una voce importante da tenere d'occhio, nel senso che se sei una persona a cui piace viaggiare o a cui non piace viaggiare, è molto importante sapere quanto questa posizione ti richiede di essere sul campo e quindi fuori sede e che ne so, per esempio, a visitare clienti o a fare conferenze. Tipicamente si tratta di visitare clienti in sede. Questa posizione è molto tranquilla, è un 0,25%, quindi la stragrande maggioranza del tempo sia in sede. Tipo di ruolo, abbiamo detto qua è un individual contributor, con tutta quella spiegazione che abbiamo visto prima. Questa non c'era, fino al 50% lo puoi fare da casa. Data di apertura della posizione, tipologia di professione, siamo nell'engineering, tipo full time. Qui abbiamo poi una descrizione in prosa, dove chi apre la posizione, il people manager responsabile di questa posizione, cerca di dare una descrizione accattivante e dare il contesto in cui ci inseriamo e anche il contesto appunto di questo team all'interno di Microsoft e cerca di essere accattivante e attrarre talenti nel proprio team. Poi abbiamo invece una sezione un po' più tecnico-oggettiva, dove vengono indicate le responsabilità e quindi che cosa sarà di tua competenza, che cosa dovrai fare, su cosa sarai misurato all'interno del team, quindi le responsabilità in tutto quello che questo significa, come per esempio applicare, siamo in una posizione di software engineering, quindi applicare i principi di ingegneria del software, imparare velocemente, problem solve and debug, scrivere e debuggare codice. qui stiamo guardando una posizione per internship, poi ne guarderemo un'altra più velocemente per una persona con già esperienza, le qualifiche, quindi ciò che devi saper fare per poter essere considerato in questa posizione, qui hanno fatto un bel lavoro, vengono suddivise in quelle minime richieste e anche i bonus, le preferenziali, quindi minimo abbiamo queste, se abbiamo anche almeno una di queste o più di queste, è meglio, vuol dire che magari verremo chiamati per prima, rispetto a chi nel curriculum non le presenta. qui abbiamo un'assoluta novità, dove viene indicato esplicitamente il range del salario, il RAL, la retribuzione annua lorda, perché in alcuni stati degli Stati Uniti è di recente introduzione una legge, dove questo deve essere dichiarato, questo range deve essere dichiarato in maniera esplicita, quindi vedete bene cosa significa fare un internship, ok, appena fuori dall'università o con pochissima esperienza, in Microsoft in questa posizione sono tra i 92.000 e i 150.000 dollari all'anno, ok, quindi questo è un motivo per cui tanti cercano lavoro nelle aziende tech, le aziende tech pagano tanto soprattutto perché questi appunto sono delle posizioni anche in posti dove è costoso vivere, Redmond è una delle città più care degli Stati Uniti e quindi l'offerta di lavoro si deve adeguare anche il costo locale della vita. In più qui vengono indicati anche ulteriore benefit, ok, quindi per esempio negli Stati Uniti è importantissimo il programma di assicurazione medica, sconti sui prodotti, live di ferie per maternità e paternità, e eccetera, eccetera. Ferie. Ne guardiamo velocemente un'altra, per esempio se volessimo fare una ricerca per posizione di, sempre engineering, entriamo in, facciamo SEO, le vediamo in Italia, no? Quello che è disponibile dall'Italia, quindi engineering, country, region, mettiamo Italy, l'avevo vista, facciamo prima scrivere, ok, ci sono attualmente in engineering due posizioni aperte, un network planner, disponibile, principalmente questa è la posizione di riferimento a Londra, ma come vedete è disponibile anche in Italia, e abbiamo un fiber delivery engineer sempre disponibile anche in Italia, questo è il team di Microsoft delle operazioni cloud, che mantiene l'infrastruttura di Azure del cloud, ok, quindi andiamo dentro, e qui potete vedere per esempio che oltre che esserci una lista di qualifico, di esperienza richiesta più corposa, perché sono appunto posizioni per persone che hanno già esperienza, essendo posizioni per l'Europa, qui non c'è il RAL, la retribuzione a Londra per esplicita. Ora per esempio possiamo, una cosa che vale la pena di fare, è quella di fare accesso, per esempio, questo vale in tutti i siti, ogni sito di careers, nelle tutte le grandi aziende ce l'ha, si può fare una login, io faccio la mia login Microsoft, ci rivediamo dopo la login, eccoci, login completata, una cosa che può essere interessante, per esempio io posso salvare le posizioni che mi piacciono di più, compaiono qui in Saved Jobs, un'altra cosa che posso fare è impostare i Job Alert, i Job Alert sono per esempio delle query, ricorrenti che io posso impostare, mi vengono mandati i risultati per email, a una cadenza specificata, per esempio diciamo che mi interessa, nell'ambito del program management, ok, ruolo bellissimo, program management, dove del 100% da remoto, per esempio, posso fare, e metto anche country, vabbè, facciamo finta, United States, ok, posso, posso prendere questa, eccolo qui, qui sotto, dico, PM stati, PM USA da remoto, salvo, gli dico, voglio ricevere email per questa cosa, una volta alla settimana, faccio Create Job Alert, cosa succede, che io vado qui in Job Alert, e mi ritrovo, la query salvate, mi arrivano i risultati, posso rivederli, posso cancellare, e così via, questo c'è un po' in tutti i siti di posizioni, delle grandi aziende. Passiamo, per esempio, a Google, diciamo Google Careers, Search Jobs, e vedremo come i concetti, sono sostanzialmente gli stessi, abbiamo anche qui la possibilità, di fare la Job Alert, e quindi ricevere, nelle email, o delle notifiche, per delle posizioni, che ci siamo salvati, e anche qua, possiamo cercare, per posizioni, facciamo per esempio, voglio lavorare nelle vendite, di nuovo, restiamo più pertinenti, il nostro esempio, software, Ingegner, vado qui, scrivo Italia, e vabbè, dove scrivere Italy, ok, ecco per esempio, ci vengono fuori, tutte le posizioni pertinenti, alla nostra ricerca, abbiamo di nuovo, più o meno, le stesse cose, abbiamo un titolo, il dove, può essere a Parigi, può essere in Italia, a Milano o a Roma, abbiamo le cose minime, le preferenziali, qua ho invertito, le descrizioni in prosa, e le responsabilità, in più, tutto sotto, jargon legale, di, sì, cose che devono mettere, ecco, per legge, diciture varie, possiamo vedere la stessa cosa, in Amazon, careers, ok, abbiamo la stessa, stessa identica, filosofia, ok, qui su Amazon, vediamo che abbiamo la stessa identica filosofia, la divisione per student, o anche per, per chi ha già, preferenze, facciamo software, ecco, qui lo chiamano software development, dove veniamo in Italy, vado a cercare, e abbiamo più o meno le stesse cose, vedete, country, region, città, quando è stata, aperta questa posizione, e responsabilità, spiegazioni del team, qualifiche di base, qualifiche richieste, e così via. Come qua si vede bene, hanno addirittura incorporato un video, e questo ne avevo, ne avevo visti anche in Microsoft, non direttamente negli annunci, ma il team per cui, dove erano inserito, c'era, venivano pubblicati su YouTube, dei, una sorta di, motivazionali, di, di video molto belli, divertenti, e come si dice, accattivanti, per attirare l'attenzione, attirare l'attenzione sul team, e descrivere cosa fa una persona, in quel ruolo, qui per esempio abbiamo, ok, Byron e Kevin, che ci spiegano, sono intervistati, e spiegano cosa fanno durante il giorno. Ok, ora voglio mantenere la mia promessa, delle cose che secondo me, più importanti, oltre a saper un attimo, navigare il sito, e vedere, individual contributor, e pitbull manager, che cosa significa, un po' come cercare, voglio darti veramente, quelle che secondo me, sono le cose più importanti. La prima è che, io non lo credevo assolutamente, ma, quei siti vengono continuamente consultati, monitorati, eletti, e guardati. Queste aziende, tutte quante, hanno proprio degli interi dipartimenti, dedicati a seguire la cosa. Se hai il dubbio di, ma sì, tanto non lo leggerà nessuno, non è vero, mandalo, perché di sicuro, qualcuno lo legge, il tuo curriculum verrà visto. La seconda cosa è quello di avere una presenza online, perché se nel tuo curriculum, sono presenti dei riferimenti, tipicamente magari a un blog, a un tuo account github, se sei appunto un developer, con dei progetti, anche niente cose mirabolanti, ma che dimostrano il tuo interesse, e di cosa ti occupi, o di cosa ti sei occupato, di sicuro è una documentazione interattiva, che chi guarda la tua candidatura, andrà a vedere, o comunque documentazione a supporto, che può giocare a tuo favore. Ovvio, cerca di mettere in risalto, magari le cose più carine. Infine, anche per quanto riguarda le qualifiche richieste, non aspettare di trovare la posizione, dove hai tutte le qualifiche richieste, anche se ne hai un 30-40%, magari dove chiedono 5 anni di una cosa, e tu ne hai 3, tu fatti avanti lo stesso, perché poi è comunque, sempre una relazione tra persone. Certo, ci deve essere assolutamente della competenza, ma durante il colloquio, durante gli incontri, siano virtuali, con webcam, team call, così via, o anche di persona, c'è sempre, gioca un ruolo fondamentale, anche l'impatto a pelle, come ci si pone, e la propria, dimostrare la propria voglia di imparare, e di crescere, e mai di restare fermi. ma la buona volontà viene sempre apprezzata, anzi, a volte, può fare la differenza. Se il video ti è stato utile, o ti è piaciuto in qualche modo, metti un mi piace, mi raccomando, iscriviti al canale, per rimanere aggiornato, su tutte le prossime uscite. Ciao!